pace sto registrando questo audio per condividere con la chiesa alcune rivelazioni che dio mi ha fatto circa il rapimento probabilmente anche tu credi perché così ti è stato insegnato che il rapimento avverrà prima della tribolazione però purtroppo devo dirti che non è così questa è una dottrina bugiarda e io ti voglio invitare questa sera a meditare sulle scritture che io sto per leggerti e a chiedere allo spirito santo che ti riveli quello che c'è scritto così come dio lo ha rivelato a me affinché tu comprenda se quello che ti hanno spiegato quello che ti hanno insegnato viene da dio viene da satana perché se viene da satana tu lo devi rigettare perché è menzogna e prima di iniziare voglio farti una domanda chi è che vuole una chiesa che vive nella menzogna o chi è che vuole una chiesa ingannata chi è che vuole una chiesa impreparata sempre satana quindi ti prego fai attenzione fai attenzione a queste parole leggerò solo due versetti sono tanti versetti che possono spiegare perché il rapimento non avverrà prima della tribolazione e se vuoi poi magari mi puoi contattare a conoscere dio chiocciola yahoo.it ma io qui leggerò solo due versetti dalla nuova di odati che ti spiegano chiaramente in maniera lampante quando non avverrà il rapimento perché il signore stesso primo tessalonicesi capitolo 4 versi 15 16 17 rileggo ora vi diciamo questo per parola del signore da verso 15 noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del signore non precederemo coloro che si sono addormentati perché il signore stesso con un potente comando con voce di arcangelo con la tromba di dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in cristo risusciteranno per primi poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il signore nell'aria così saremo sempre con il signore ora voglio togliere da questi versetti le parti che rendono la comprensione un diciamo meno semplice lasciando solo la parte che è molto più chiara e allora rileggo dal verso 15 da metà al verso 15 noi viventi che saremo rimasti salto una una virgola non precederemo coloro che si sono addormentati cosa sta dicendo paolo che i viventi se non precederanno vuol dire che seguiranno vuol dire che andranno dopo quindi vuol dire che coloro che si sono addormentati andranno prima lo ripete poi al verso 16 perché il signore stesso con un potente comando salto una virgola discenderà dal cielo e quelli che sono morti in cristo risusciteranno per primi quindi sta dicendo prima ci sarà una resurrezione poi vi sarà rapimento degli dei rimasti cioè dei viventi verso 17 poi noi viventi quindi dopo i risorti che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole quindi ricapitolando paolo ha detto una cosa molto semplice prima vi sarà una resurrezione poi vi sarà un rapimento dei viventi ora dove noi troviamo la resurrezione nella bibbia ne troviamo due esattamente le uniche due resurrezioni e sono nell'apocalisse una è la resurrezione dei credenti in cristo e l'altra la resurrezione di tutti gli altri per il giudizio finale quindi basta sapere quando avverrà la prima resurrezione per capire da che momento in poi noi possiamo considerare che avverrà il rapimento se noi andiamo a cercare l'apocalisse la troviamo la prima resurrezione in apocalisse 20 verso 4 leggo sempre dalla nuova dio dati poi vedi dei troni e a quelli che vi si è detto fu dato di giudicare e viti e vedi le anime di coloro che non stati decapitati per la testimonianza di gesù e per la parola di dio e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano costoro tornarono in vita e regnarono con cristo per mille anni salto un capoverso questa è la prima resurrezione quindi qui giovanni sta scrivendo quando ci sta dicendo esattamente avverrà la prima resurrezione quindi vuol dire che prima di questo giorno non vi sarà stata nessuna altra resurrezione ora se paolo ha detto che il rapimento dei viventi avverrà dopo la resurrezione dei morti in cristo vorrà dire che prima di questo giorno non vi sarà stato nessun rapimento ora quando avviene questo giorno è molto facile avviene prima dei mille anni di cristo quando gesù tornerà a regnare cioè quando dopo armageddon dopo il giorno del signore dopo che avrà legato e gettato nello stagno per sempre la bestia il falso profeta quindi alla fine della tribolazione ora io penso che queste due scritture siano molto chiare e come tu sai la bibbia spiega la bibbia io ti invito a riflettere a meditare soprattutto voglio dirti una cosa se tu sei un ministro se tu sei un pastore e se tu hai insegnato così perché così ti è stato insegnato io ti prego informa avvisa avvisa la chiesa avvisa la chiesa avvisa la chiesa che non è più tempo di dormire avvisa la chiesa che purtroppo è ricaduto anche tu nel tranello e ricaduto anche tu nel tranello e hai insegnato una cosa sbagliata ma dio è sempre pronto a risollevarci dio è sempre pronto a sistemare le cose se noi apriamo gli occhi se noi ascoltiamo la sua voce ricordati che satana satana vuole una chiesa impreparata nel nome di gesù io ti benedico nel nome di gesù a me grazie grazie